Ciao, sono Alaska, sono un musicista, nella vita scrivo canzoni, non mi piace accollarmi il peso della parola canto-autore, quindi preferisco dire che scrivo canzoni e che poi le canto, le suono. A questo proposito suonerò e canterò per voi il 19 ottobre a Latte più Live di Brescia, perché sono uno dei finalisti di Musica da Bere, questa cosa mi rende molto molto felice. E con me sul palco ci saranno Fabrizio Falco alla chitarra, che è anche il mio producer, il producer del progetto, e Maurizio Conte al sax. Io vi saluto e vi aspetto numerosi. Ciao! Senza lei da contarci, siamo libri di scienze. Spaghiamo tutto che alla fine abbiamo il tempo di imparare, rimediare o fare peggio, fare peggio. Imparare, rimediare o fare peggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.